Ero in libertà già da alcuni giorni e non avevo ancora scopato. Sembrava una barzelletta. Siccome avevo pochi soldi, sono andato da Giorgia Valente, a casa sua, non dove lavorava. Al massimo mi avrebbe mandato quel paese. Quando ho aperto la porta, sono rimasto di sasso. Vacca si era cambiata. La ragazza di quindici anni fa era diventata brutta e grassa. Ne avevo conosciute tante di puttane vecchie sfatte. Ecco, la Giorgia stava diventando così. Oh, ma sei sempre bella! Le ho sussurrato per essere gentile. Lei mi ha abbracciato e baciato sulle guance. Ma dai che non è vero, sei sempre stato un gran bugiardo. Ma sono contenta di vederti. Mi ha portato sul letto e mi ha suonato tutto il repertorio. Si comportava come fosse la mia donna. Un vero zuccherino. Mi sussurrava parole d'amore e io ero felice. Alla fine mi sono addormentato fra le sue tette. Beh, ci avrà un'ottava. E quando mi sono risvegliato lei mi ha sorriso. Un sorriso vero. Allora mi sono messo a piangere. Era quindici anni che non mi succedeva e lei mi consolava. Ma dai Stellina, dormi qua stanotte, va là. E poi è andata a prepararmi la cena. Grandonna, Giorgia Valente. La mattina quando sono uscito sono passato davanti all'edicola. E quando ho visto il giornale pensavo di restarci secco. Daniele Abborsato resta e si viero misteriosamente scomparsi. Tracce di sangue sul soffitto. Per gli inquirenti potrebbe trattarsi di omicidio premeditato. Mistero sul movente. Sono corso subito a casa e ho dovuto strapazzare la mamma. Dimmi la verità ti prego. Qualsiasi cazzata tu abbia fatto non mi arrabbierò. Sei la persona più importante della mia vita. Ti vorrò sempre bene, cazzo. E allora lei ha parlato. Porco Giuda, che casino ha combinato. Ma dice che l'ha fatto per il mio bene. Oh, santa donna, ho dovuto riempirla di baci per consolarla. È vero. Senza la firma di Contin non sarei mai uscito. Ma sono uscito fottuto, cazzo! Fottuto! Però adesso era tutto chiaro. Oreste aveva preparato i soldi e il passaporto per la mia fuga. Contin l'ha saputo. E l'ha fatto fuori assieme alla sua donna. Ma te lo vedi? Un regolare come Contin? Massacrare due cristiani. Grazie. 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 Grazie a tutti